Rekordbox è la sua history. Amici ma soprattutto amiche di SOS4DJ, Rekordbox ha la sua storia e noi possiamo vedere tutto ciò che è accaduto all'interno del software, quando si lavorava, quando si provava, tutto. Possiamo vedere tutto ciò che è stato fatto all'interno di Rekordbox da quando abbiamo iniziato a lavorarci, quindi se vi siete persi qualcosa o non vi ricordate alcune tracce che avete suonato quella serata potete risalire direttamente nella cronologia e andarvele a cercare per mese, per anno, per giorno, per serata. Andiamo a vedere direttamente su Rekordbox. Questa è la versione 6.4.2, l'ultima al momento, ma funziona anche sulle versioni precedenti la storia. Come andare a cercarci tutti i file nella cronologia, nella storia di tutto ciò che è stato suonato? Voi avrete una situazione del genere quando aprirete Rekordbox ed ecco qua da collezione playlist, abbiamo tutte le nostre playlist ma scorrendo in giù abbiamo cronologie. E qui vedete che si apre il primo anno perché è l'unico, perché insomma il 6 è installato non da molto e abbiamo tutte le cronologie che noi possiamo andarci a ritrovare. Il resoconto di tutto ciò che abbiamo suonato sul software con un sacco di info che potrebbero esserci utili. Per esempio vedete qua che si apriranno tutte le varie history, chiaramente qua c'è poco perché sono tutti i miei tutorial e quindi non è un software con il quale io suono, non ci sono delle vere e proprie playlist. Però mettiamo che io voglia questa qua di settembre dove ci sono tre tracce. Vedete che allargando qua io posso vedere che questa è la storia del 10 settembre 2020. A cosa ci serve sapere esattamente che cosa abbiamo suonato quella sera in quella data specifica? Ci serve perché se noi abbiamo fatto una bella serata e vogliamo risalire e vogliamo non dico replicarla ma quantomeno seguirne le tracce e la linea impostata possiamo andarcela a cercare dicendo a cavolo a settembre abbiamo fatto una bella serata qual era? Spulciando qui la ritroviamo poi possiamo controllarla e prendere spunto ma non solo cliccando con il tasto destro abbiamo la possibilità di convertire la cronologia in playlist quindi andarla proprio a mettere dentro le playlist e vedete che me la inserisce una volta fatto qua. da dove possiamo rinominarla chiamarla serata del 10 settembre per dire così vi rimarrà tutto ben impresso e questa rimarrà sempre nel nostro archivio non è che verrà cancellata lui fa solo una copia e ci possiamo fare tutte le operazioni che di solito facciamo con le playlist come avete visto nominarla riordinarla metterla dove vogliamo all'altezza che ci interessa per esempio metterla di riferimento accanto a una playlist la post dance in modo da gestirla e avere un raffronto immediato la possiamo riordinare per elenco di riproduzione cliccando sulla numerazione vedete dall'ultima suonata alla prima suonata ma anche per mettere più serate in ordine potete creare una nuova cartella di playlist la cartella la chiamiamo serate vecchie belle poi voi la chiamate come volete e qua dentro ci metterete tutte le serate vedete che adesso ci è andata dentro ci andiamo a mettere anche quella del 9 e anche le altre facciamo questa prova e le andiamo a mettere dentro serate vecchie così qui avrete tutte le serate di riferimento che vi possono interessare tornando alle playlist che vedete sono ancora qua della storia possiamo non solo esportarle convertirle come playlist ma eliminare la cronologia quindi se vogliamo far sparire tutto questo per qualsiasi motivo e possiamo anche esportarla come file di testo quindi in un file txt oppure un file m3 u8 un file di testo normale in modo da avere tutte le la lista e controllarla e m3 u8 che sono non solo file musicali ma semplicissimi file di testo contenenti le istruzioni per riprodurre una playlist per poter funzionare in genere questi vengano aperti con vlc da solo i file m3 u8 non serve a niente serve che tutti i file siano linkati file musicali inoltre possiamo condividere la play history su cuvo con i nostri amici o i nostri colleghi le liste delle history potete anche ricavarle dalle chiavette che utilizzate con record box sui vostri lettori importando la stessa usb sul record box poi andrete su dispositivi e andrete a pescarvi le cronologie della storia tutto questo c'è molto utile perché possiamo avere un riferimento delle serate riordinarle e andarle a implementare quindi possiamo risistemare dire questa serata ho suonato queste tracce adesso le mescolo metto questa prima questa e la faccio simile ma non proprio uguale questa può essere utile per chi lavora sempre nello stesso locale e ha bisogno di dare una rinfrescata un cambio di passo pur mantenendo lo stesso sapore della serata questo può essere utile ci può servire tutto questo per la siae quindi per andarci a compilare e borderò musicali programmi musicali voi potete andare tranquillamente sulla serata che avete fatto andate su cronologie a dicembre il 27 ho suonato questo e allora esportando il file oppure copiandolo da qua possiamo tranquillamente copiarci i titoli vedete che io salvandola come txt mi apro il file e avrò quello che ho suonato ecco qua il file l'xt sul bloc note di windows vedete robin schultz sante cruz eternity e qua ovviamente se voi avrete messo gli autori potete scrivere autore e titolo sul borderò programma musicale anche copiando che sarà molto più facile se fate il borderò online vi ricordo dei corsi per dj importantissimo corsidjproducer.com dove potete fare lezioni personali e private con il sottoscritto online e anche consulenze private per tutti i vostri problemucoli contattatemi nella sezione contact compilando il form di questo sito oppure più semplicemente nella pagina facebook che trovate all'interno di ogni video c'è la mia pagina facebook la pagina di sos4dj contattatemi lì in privato per prendere appuntamente fissare una lezione oltre alla pagina facebook troviamo anche la pagina instagram e la pagina telegram se volete mettete mi piace a instagram ed iscrivetevi a telegram e la community dove vengono dette contenuti extra parliamo un po di tutto il mondo di sos4dj per gli affezionati se volete far parte della nostra squadra potete iscrivervi è gratis altra cosa ben più importante l'iscrizione al sito perché è un attestato di stima nei nostri confronti e ci farà crescere chiaro che se cresciamo noi crescerete anche voi perché avrete a disposizione tutto il materiale giornalmente per crescere insieme a noi attivate la campanella mettete un bel like se vi è piaciuto questo video e condividetelo con i vostri colleghi amici sui social se pensate che possa essere loro utile sostieni sostieni sos4dj dacci una mano a crescere cliccando il tasto paypal offrendoci un caffè una pizza una cena una macchina un bel appartamento con piscina o tutto quello che volete voi insomma fateci capire che siete lì e fate squadra insieme a noi come dico e ripeto da sempre la gestione delle serate è stra 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 importante non bisogna mai arrivarci da sprovveduti bisogna improvvisare sì ma non bisogna arrivarci in condizioni così un po disastrate per cui avere a disposizione anche questi riferimenti per la storia e per la cronologia può essere veramente un valore aggiunto per tutti noi quindi utilizzatela è semplicissimo andarla a cercare su cronologie la storia tutto il nome delle serate potete rinominarle le mettete all'altezza delle place dove vedete le esportate ci fate tutto quello che volete e vedrete che vi sarà molto di aiuto come riferimento alle volte può capitare che in quella serata c'è il buio cosmico come lo chiamo io dove non hai un po ispirazioni e sei un attimino piatto rispetto a altre serate allora vai lì prendi un attimo spunto poi parti e non la guardi più e ti prendi la tua linea che vuoi impostare questo è un consiglio che vi do mi raccomando fatemi sapere se già la usate qua sotto nei commenti e tutte le vostre idee in merito da parte di esso esfordigio un abbraccio grosso vi aspetto sempre qua mi raccomando iscrivetevi al canale che è molto importante per tutti noi e seguiteci sempre perché la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio piripiri pi